un'altra linea di prodotti di montalto natura un nome che una garanzia di altissima qualità infatti da 60 anni loro si dedicano proprio con passione alla ricerca la creazione di prodotti naturali e biologici infatti ci sarebbe molto da dire di questa azienda proprio tutta la famiglia dedicata andando anche controcorrente negli anni in cui tutti andavano con la chimica e tutti i derivati del petrolio loro dicevano no noi vogliamo solo prodotti naturali ed eccoci qua per farvi vedere presentarvi una linea di prodotti questa volta adatta alle pelle alle pelli secche e delicate infatti è la linea terra cosa c'è di più bello che la terra eccoci abbiamo tutto latte detergente poi il tonico emolliente la crema 24 ore e la maschera purificante nutriente allora a te massimo quindi la parola da dove iniziamo ma iniziamo sempre dalla detersione cara clara perché è un fatto sempre esclusivamente molto importante la detersione al di là di tutto usiamo questo latte detergente molto ricco in calendula e soprattutto anche in burro di carité proprio per andare a trattare quelle pelli che tendenzialmente perdono l'acqua e quindi risultano disidratate e perdendo l'acqua diventano anche sensibili si sensibilizzano questo è molto importante sentito che bello che è? mamma mia nonostante il caldo delle luci è proprio una sensazione fresca sì sì devo dire la verità è molto buono e soprattutto permette alla pelle di subito sentirsi confortata è vero bravo quello questo è una cosa veramente molto importante allora latte detergente mattina mattina e sera la detersione va fatta sempre al mattino sempre alla sera è importante sempre con le nostre spugnette oppure con le mani l'importante è sciacquare perfetto dopodiché andiamo a usare il nostro tonico emolliente che vuol dire? perché tonico emolliente? perché noi stiamo trattando una pelle sensibile una pelle che si disidrata molto facilmente lasciami dire la classica pelle matura ah ok capito molto importante perché una pelle matura non è più in grado di trattenere l'acqua quindi magari anche chi prende molto il sole soprattutto soprattutto questo è molto importante quindi questo latte emolliente sempre a base di calendula perché è un lenitivo questo è molto molto importante il modo d'uso come stai facendo lo puoi usare con le mani oppure col batuffolo di cotone per chi non ama usare le mani sul proprio viso anche se io consiglio sempre di farsi dei grandi massaggi sulla pelle del viso con le mani quindi riscaldarlo anche con dei movimenti e togliere tutte le impurità tutta la parte di residuo del latte perché il tonico rammentiamolo è un astringente riacidifica il pH della pelle quindi la va a ricompattare e la presenta pronta per i trattamenti successivi perfetto e qual è questo trattamento? infatti il trattamento successivo che noi possiamo fare lo possiamo fare settimanalmente o a volte anche più durante la settimana dipende sempre dalla situazione e la nostra maschera monouso è importante la nostra maschera monouso perché è un prodotto che dopo la detersione va stesa sulla nostra pelle del viso, sul collo se ci sta anche un po' di décolleté perché no? il décolleté è molto importante per le donne quindi dobbiamo sempre considerarlo come un tutt'uno questo è molto importante per cui tutto quello che noi facciamo sulla nostra pelle del viso andiamo a fare sia sul collo che sul décolleté perfetto quindi lo mettiamo, lo lasciamo un pochettino la lasciamo agire dopo di che quanto? ma 5-10 minuti, non di più dopo di che andiamo a portarla via sempre con le nostre dischetti ah sì, un dischetto certo o con le nostre puglie stavo pensando che magari mentre abbiamo la maschera così due belle fette di cetriolo qua, no? per coprire la zona degli occhi ci rilassiamo un attimo così approfittiamo anche per rilassarci se sei seduta sicuramente quindi ti rilassi se invece la metti, fai la maschera e fai altre cose magari no però approfittiamo, dai, coccoliamo ci ripostiamo c'è almeno 5-10 minuti così facciamo agire bene la maschera che poi appunto togliamo togliamo e a questo punto abbiamo una pelle ben detersa detersa in profondità perché una maschera, ricordiamolo, è purificante è nutriente allo stesso tempo quindi è una cosa molto importante l'ultimo gesto di questo kit è la nostra crema Idra è una crema 24 ore molto importante sempre concepita per essere usata dalle persone che hanno le pelli tendenzialmente disidratate, secche con problemi anche di sensibilità questa è una cosa molto importante Scusa, anche per gli uomini potrebbe andar bene o... perché siccome mi sembra ecco, una crema che si assorbe facilmente ecco non... Allora, potrebbe essere usata come dopo barba cioè come trattamento lenitivo come per dopo aver fatto la barba come tutti gli uomini non amano molto sentire prodotti molto, molto untuosi quindi in questo caso penetra molto facilmente quindi io consiglio di usare per gli uomini di usarne veramente molto ma molto poco Allora, intanto prendete due kit così non andate a rubare creme questo è importante alle vostre donne assolutamente e ricordate appunto questa linea terra quindi con latte detergente tonico emolliente la maschera purificante e la crema 24 ore quindi pelle secche e sensibile per la vostra bellezza quotidiana Grazie